il manicomio dell'altore gay vai passo entrata a passo perché deve controllare due basi quindi 0-3-11 due terre base quelle non sono base quindi 0-3 un po' mi salva no 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 due terre base sono terre non base queste sono non base però quella tutta isola quindi quella è un 4-3 base 4-0-3 no 4 perché allora no allora questa dice terre base questo dice tipi di terra base quindi pianura, isola, foresta, palure con un'emozione in magia con un'emozione in magia sennò domenica farebbe schifo ter è diventato maggiorenne è diventato maggiorenne bene no no lui ha detto quello che ha detto per la seconda poi pesco l'acquisizione tappo questo 2-2 grossi l'acradon volante dite quando entra o attacca se faccio pesco uno questo mi raddoppia il mano no no hai dosso i manchi un pescino un bacino un bacino un bacino un bacino sul naso un morso sul naso ho scanzato cubano e non hai abilità però se scarti i peschi di questo si si se scarti i peschi o se peschi i scarti no i dragoli far contrasto è più forte la cesta la ricolla allora vero Fabio attacca e blocca no no se lo vuoi fare un altro se avanza lo fa l'altro no non ricorda grazie patto di negazione quanti sono? tredici 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 dai l'ho bloccato il forza blocco 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 lui che muoia entrambi ventino in più no no 10 hai montagna ora in più sono 5 e 3 eh ora sono 3 ah si sul tappo paghi patto ti sa fare perché il montaggio è un patto di negazione questo è preso scusate concesso sono stati ai video ok te la concesso